Allora, intanto mi porto a casa che l'argomento ha suscitato un certo interesse, anzi parecchio interesse. Devo dire che ci sono stati commenti da parte di tutti quanti, sono andati a esaminare degli aspetti più specifici, quindi c'è stato un approfondimento di questo approccio, sono venute fuori anche dei suggerimenti per una sua messa in pratica, per un progetto pilota, eccetera. Come punti che ricordo importanti, al di là di un'accettazione generalizzata del progetto, del fatto che molta gente vorrebbe lavorarci, sale a bordo, eccetera, però io mi sono annotato dei punti relativi alla possibilità di utilizzare su questo progetto l'intelligenza artificiale, al tema forte della cultura e dei comportamenti sui quali bisogna agire, non solamente sulla organizzazione di questa attività, non soltanto sulla governance dei territori, però anche c'è un tema un po' di fondo dei comportamenti che vanno in qualche modo indirizzati. Sul tema dell'innovation, anche da parte di aziende che hanno intorno al tavolo, quindi non un'innovation generalizzata come per esempio quella dell'intelligenza artificiale che c'è, ma anche, non so, per esempio c'è la Boeing intorno al tavolo che ha proposto di intervenire con un lavoro sull'innovation per l'aeromobilità sostenibile, ha portato anche degli esempi. Mi sembra che è emerso il ruolo fondamentale della governance, quindi sì, una rivoluzione bottom-up sui territori, però con un certo coordinamento da parte, diciamo, di una governance centralizzata che funga anche da single point of contact per sistemi esterni al sistema dei distretti SG come quello dei finanziamenti delle aziende, del mondo della ricerca, eccetera. Quindi fondamentalmente molto soddisfatto, spero che poi ci sia un follow-up e già qualcuno mi ha chiesto di fare follow-up specifici. Bene.